Il Parco Archeologico di Ercolano si arricchisce di nuovi contenuti digitali interattivi e lo fa con Ercolaneum 3D Scan. Ogni settimana, nell'ambito della programmazione social del mercoledì dei Lapilli, i visitatori potranno entrare virtualmente dalla pagina Facebook del parco in una nuova residenza degli antichi ercolanesi, ammirarne i dettagli costruttivi ed interagire con strumenti specifici con l'ambiente. Ercolaneum 3D Scan nasce dalla volontà di condividere in anteprima parte della ricchissima banca dati raccolta nell'ambito della pluriennale attività di documentazione e monitoraggio del sito archeologico di Ercolano. Non si tratta di ricostruzioni virtuali, bensì di vere e proprie scansioni tridimensionali, nuvole di punti 3D ad altissima densità acquisite per mezzo di laser scan 3D e riprese fotogrammetriche da drone. All'interno della nuvola 3D è possibile navigare e visitare virtualmente i differenti ambienti delle domus, ma anche misurare distanze, superfici, volumi o ancora estrarre sezioni ed esportare i risultati nei format più comuni. Il progetto Ercolaneum 3D Scan rappresenta il primo passo all'interno di un percorso più ampio che il Parco archeologico di Ercolano, insieme con il Packard Humanities Institute, porterà a compimento nel prossimo futuro. Grazie a tutti!